La verità è questa. Sprenkirkegaard, 1813-1855, filosofo, teologo e scrittore danese, in Lora, dice La verità è questa. Non solo noi non siamo cristiani, no, noi non siamo neppure pagani, tra cui si possa liberamente predicare il cristianesimo. Già che un'illusione, un'enorme illusione, ci vieta di divenire cristiani, l'illusione cioè di vivere in una cristianità, in uno stato cristiano, in una terra cristiana, in un mondo cristiano. Commento L'enorme illusione è di possedere una verità che non sia la propria minuscola verità. Anche la cristianità è la minuscola verità della condizione umana che, per la maggioranza degli individui, è ancora del tutto pagana. È la legge d'evoluzione che avvicenda continuamente verità progressive, le uniche verità intuibili dal periodo evolutivo chiamato uomo. Grazie 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 Grazie